Nuova manifestazione di protesta questa sera a Cosenza. Gli organizzatori del sit-in si sono dati appuntamento alle 18 all'uscita di Cosenza sud della 2 Salerno-Reggio Calabria. Tra i promotori cittadini e collettivi della città di Cosenza, come la scorsa volta si prevedono anche presenze dell'Interland cosentino. Una seconda protesta che segue quella della scorsa settimana, sempre contro gli scandali della sanità che stanno interessando in modo particolare in questo momento la nostra Regione, con gli ultimi episodi dell'ormai ex commissario ad acta Saverio Cotticelli e con la nomina del suo successore contestata anche nello stesso schieramento politico. Gli scandali che stanno colpendo le istituzioni calabresi, dichiarano in una nota gli organizzatori, sono l'ennesimo schiaffo alla dignità della gente. Mentre il Governo nazionale ci propina l'ennesimo commissario impresentabile, la Giunta regionale cerca di scrollarsi di dosso a decenni di gestione criminale della sanità pubblica. È necessario inchiodare ognuno alle proprie responsabilità, sconti a nessuno, da centrodestra a centrosinistra, dalla Regione al Governo nazionale. I calabresi e le calabresi proseguono, non sono disposti a fare un passo indietro. I manifestanti chiedono in particolare un piano sanitario straordinario, reddito per chi è colpito dalla crisi, dimissioni del Governo regionale e stop ai commissariamenti. E sono decisi a continuare la mobilitazione pacificamente ma con azioni eclatanti se non dovessero ottenere delle risposte.